Buongiorno ragazzi, benvenuti su Cassiub Drums, vi dico buongiorno anche se magari vedrete questo video alle 11 di sera e mi direte che, vabbè, pazienza. Comunque, oggi vi voglio parlare di Rototom e vi voglio spiegare un po' di storie, tra virgolette, ma soprattutto un po' di applicazioni di questi tamburi che molti di voi non conosceranno. Molti di voi mi diranno, ma che cavolo sono questi Rototom e a cosa servono? Molti altri diranno, sì, io li conosco, Giamma, sono dei tom che si usavano negli anni 70, vero, ma fino a un certo punto, perché oggi voglio spiegarvi un po' di applicazioni di questi tamburi che secondo me sono ancora super, super, super moderni e super utilizzabili insieme al nostro drum set. Quindi, dato che volevo fare questo video sui Rototom, mi è venuto in aiuto, come al solito, dov'è, qui, strumentimusicali.net, che ringrazio come sempre perché ogni mio desiderio con loro è soddisfatto. Voglio fare il video sui Rototom, gli dico guarda, vorrei fare il video sui Rototom e dopo due giorni, in realtà dopo un giorno, mi sono arrivati i Rototom. Quindi figata, pazzesca, grazie ai miei strumentimusicali.net, questa però in realtà non è la scatola dei Rototom, la scatola dei Rototom era un po' più grande, ma li ho già unboxati. Ed eccoli qua i miei Rototom, non ve li aspettavate probabilmente così, anche se li avete già visti nella copertina, ma non fa niente. Questi qua sono dei tom speciali, oggi vi spiego il perché, non voglio rompervi troppo le scatole con la questione introduzione del video, mi sono già dilungato troppo. Quindi adesso mando la sigla e poi andiamo a vedere questi tamburi che si accordano ruotando su se stessi. Avete capito bene, si accordano ruotando su se stessi. Quindi i Rototom si chiamano così, però perché sono dei tom che ruotano. Sono stati inventati da Remo negli anni 50 dopo un bel po' di studi perché si voleva arrivare ad avere un tamburo che potesse essere accordato facendo questo movimento qua, che ovviamente è molto capibile, no? Remo ce l'ha fatta e ha cominciato a farlo su tantissimi diametri, da 6 pollici fino a 18 pollici. Poi vi parlerò bene più avanti dei diametri, ma questi sono 6, 8 e 10 pollici. Solitamente viene venduta questa tipologia di Rototom perché sono un po' più piccolini e soprattutto sono più utilizzabili insieme a un drum set. Se io avessi dei Rototom da 16 e 18 non saprei bene dove metterli. Poi in realtà ci sono stati un sacco di batteristi che l'hanno fatto, vabbè, dopo vi spiego tutto. Come vedete sono composti da due cerchi. Mo' vi faccio vedere magari in questo modo qua. Li tiro così, li tiro un po' su. Una cosa molto importante è che voi vedete questi Rototom di casa Basics, quindi super economici tra l'altro, suonano bene, sono economici. E vedete anche che c'è quest'asta. Quest'asta è compresa insieme ai Rototom, quindi se voi comprate i Rototom e vi lascio il link di strumentimusicali.net qui sotto in descrizione, avrete tutto. Quindi, asta, tom, pelli, basta che vi comprate le bacchette e li potete suonare subito appena vi arrivano. Quindi, ruotiamo così, vi faccio vedere il tom in questo modo qua, chissà se ce la faccio. Ho il fuoco automatico della camera che non mi aiuta perché non si vedranno bene a fuoco, ma io adesso cambio il fuoco, lo metto bene su il primo Rototom e vi spiego. Come potete vedere, qui ci sono, vabbè, non mi vedete più però, tanto sono qua. Come potete vedere ci sono due cerchi. Il primo è un cerchio normale da tamburo. Il secondo cerchio invece è questo qua nero. Questo, in questo caso, da 10 pollici, il cerchio nero è sempre due pollici in più rispetto a quello sopra, quindi 12 pollici in questo caso. Questi due cerchi qua sono collegati da questo filetto che, non so se si può vedere, ma credo di sì, è un filetto che collega la parte sopra alla parte sotto. Quindi io andando a ruotare in senso anti-orario questo cerchio sotto, faccio sì che il cerchio si alzi un pochettino e quindi l'intonazione della mia pelle si abbassa. Se al contrario io vado in senso orario, questa rotazione farà sì che il cerchio sopra si abbassi e quindi tenda la pelle. Sentite, siamo passati da un'intonazione piuttosto alta a un'intonazione piuttosto bassa. Torniamo a fuoco automatico così mi posso di nuovo sedere. Quindi vi ho spiegato a grandi linee come funzionano questi rototom. Adesso voglio farveli sentire però, quindi vi farò vedere un po' di cose interessanti e andiamo direttamente sul set. Eccoci qua, finalmente ve li ho fatti sentire una parte caratterizzantissima, cioè la cosa più importante ovviamente è il suono. Il suono è così caratterizzante perché questi rototom non hanno fusto. Cioè se voi pensate a un tom normale, ha una pelle e poi ha un fusto. E il fusto in pratica dà alla pelle un colore diverso, quasi come se andassimo a equalizzare la pelle in un modo o nell'altro. Questi no, questi hanno la pelle e basta. Quindi viene tirata e fine. Quindi abbiamo un suono super secco. E quindi molto 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 riconoscibile. Sicuramente questo suono qua ve lo ricorderete ad esempio in Time dei Pink Floyd. Nick Mason, il batterista, fu uno dei primi a portare i rototom sia sul palco, quindi live, sia in studio. Time, l'intro di Time, è perfetto per riconoscere i rototom perché lui non aveva solo questi tre, ma aveva tantissimi rototom. E li usava in questo modo. Ovviamente in questo caso la differenza che c'è rispetto a questi rototom è la questione di riverbero. Infatti vi faccio sentire. Se io vado a fare una stessa cosa, ma metto un po' di riverbero ai rototom o tolgo il riverbero ai rototom, sentite la differenza. Grazie a tutti. Adesso ho tolto anche la cordiera del rullante per fare una cosa un po' più, tra virgolette, tribale. La cosa che si può fare con i rototom, inoltre che mi è venuta in mente adesso mentre li suonavo, è la questione di rimshot. Cioè noi come sul rullante possiamo usare rimshot sui rototom per avere un suono ancora più aggressivo. Da così a così. Ovviamente non è così semplice perché poi in una posizione più elevata così non è semplicissimo andare a prendere rimshot. Noi ovviamente possiamo metterli non per forza qua, possiamo posizionarli come li ho messi io adesso in modo tale da avere una parte di percussioni diciamo sulla sinistra e poi invece la batteria tutta sulla destra. E in questo modo possiamo andare a fare magari una scala. Avendo in pratica tre tom in più pensate a dover comprare proprio tre tom in più o due tom in un timpano quanto spendereste tantissimo un patrimonio. Quindi questa è un'ottima soluzione se volete avere dei suoni in più senza spendere un capitale. E ovviamente in base alla batteria che montate potete decidere l'intonazione dei tom. Se avete una batteria con accordatura super bassa allora potete andare a girare in senso anti-orario i vostri rototom per dargli un suono più cupo. Forse adesso troppo però. Oppure viceversa se avete una batteria accordata molto alta allora potete tirarli su di intonazione. Un altro batterista che usava i rototom in un altro modo perché lui usava la batteria fatta di rototom era Terri Bozio. Terri Bozio praticamente aveva tutti i diametri dal 6 fino al 18 alla batteria. Aveva il rullante e poi tutti quanti rototom. I rototom esistono solo in misure pari. Perché ovviamente tanto la misura dispari per arrivarci se io ho un 8 e voglio arrivare al 9 come misura basta che lo tiro un po' giù di intonazione. Quindi lo ruoto un pochettino e arriva l'intonazione che mi serve. Quindi ovviamente non è indispensabile fare tutti i diametri anche quelli dispari. Quindi tranquillamente ci si può fare come Terri Bozio usava con Frank Zappa e soprattutto con i Missing Persons una batteria fatta tutta da rototom. Oppure ad esempio Phil Collins con i Genesis lui addirittura faceva uno spettacolo con i rototom in cui li accordava e li scordava sul momento. Quindi era una figata perché per l'epoca era una cosa assurda da sentire. Ma in Italia ci sono stati ad esempio Tony Esposito che suonava con Pino Daniele, i batteristi di Poo, Stefano Dorazio. Hanno usato anche loro ma tantissimi altri batteristi. Starei qui fino a domani se vi dovessi dire tutti quelli che hanno usato il rototom. Perché appunto sono una soluzione super semplice e molto 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 efficace anche in studio di registrazione e non solo live. Ultime due cose, questione microfonazione, volendo, possono essere microfonati tranquillamente con una pinza o comunque in qualsiasi caso ma un tom, un microfono per ogni tom. Il problema è che dipende come li volete usare. Se li volete usare sempre la stessa cordatura ci sta. Se li volete scordare o avete un microfono che arriva con un'asta oppure se mettete la pinza ovviamente si girerà anche la pinza. Io adesso ho deciso di microfonarli con un panoramico da sopra e microfonandoli tutti e tre. Anche bene comunque il suono che esce da questi rototom è molto forte quindi non hanno problemi panoramici a prenderli. E infine questione pelli. Allora qui ho lasciato le pelli che mi sono state date dalla Basics insieme a questi rototom ma voi potete cambiarle. La cosa che vi consiglio, le pelli in generale che vi consiglio sono le pinstripe perché le pinstripe sono molto ferme come suono e ci permettono di non avere troppi armonici. Con questi rototom soprattutto a certe accordature gli armonici vengono fuori tantissimo quindi rischiate poi che diano un po' fastidio. Con le pinstripe invece siete abbastanza tranquilli che quelle pelli lì ve li contengono. Però poi in realtà è a discrezione del batterista. Pensate proprio come scegliamo le pelli dei nostri tom possiamo scegliere anche le pelli dei rototom perché si possono cambiare andando a svitare queste viti. Ad esempio Phil Collins usava le Remo Timpani che sono super super sottili per dare un suono ancora più secco. Ma c'è chi usa le control sound che sono quelle con il dot centrale e quindi abbiamo tanto suono bello secco ma comunque anche quelle ci tengono un pochettino tutti gli armonici. C'è chi addirittura usa le fiber skid quindi andando più verso le sabbiate per avere un suono più dolce e più ricco di frequenze basse. Lì sta un po' a discrezione del batterista come vi ho detto. Io sinceramente per quanto mi riguarda tutte le volte che ho usato i rototom con le pinstripe mi sono sempre trovato da paura. Quindi ragazzi con questo il mio video finisce qua spero i rototom vi siano piaciuti spero di avervi fatto scoprire anche qualcosa di nuovo che magari non conoscevate o che magari sottovalutavate. Perché io in realtà finché non li ho provati veramente i rototom non mi sono accorto delle possibilità e delle migliori di possibilità che avevo utilizzandoli invece. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se già li conoscevate se non li conoscevate se è stata una scoperta fighissima se non ve ne frega niente. Se vabbè fatemi sapere magari se li utilizzate già magari qualcuno li utilizza. Vi ricordo che qui sotto in descrizione c'è il link che vi riporta a questi rototom c'è il link che vi riporta al sito castube dove trovate l'articolo con ancora un po' di storia ancora un pochettino di dettagli e va in pratica a completare questo video come al solito. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qua basta ringrazio ancora come sempre strumentimusicali.net e noi ci vediamo al prossimo video ciao. Ciao